Il servizio di rilascio e rinnovo passaporti, dopo Roma, Bologna, Cagliari e Verona, è pronto a sbarcare in altri 32 capoluoghi di provincia. Da Venezia a Parma, lungo tutta la penisola fino a Reggio Calabria, si arricchirà ulteriormente il numero di città medio-grandi nelle quali, grazie all'accordo tra posti italiane e il Ministero dell'Interno, residenti e domiciliati potranno prenotare un appuntamento in ufficio postale e presentare la documentazione direttamente allo sportello. In parallelo, prosegue anche l'estensione del servizio nei piccoli comuni coinvolti nel progetto Polis, con il rilascio e il rinnovo del passaporto attivo in altri 1.900 uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Poste Italiane ha così raggiunto, con 5 mesi di anticipo, i suoi obiettivi di lancio dei nuovi servizi digitali, con l'avvio di oltre 3.000 interventi, dei quali oltre 2.200 già terminati. Più di 23.000 sono state le pratiche già concluse in circa 2.900 uffici postali e di queste circa 3.500 riguardano proprio il servizio passaporti. Numeri in crescita che confermano l'importanza della trasformazione digitale compiuta da posti italiane che, attraverso l'innovazione e la capillarità della sua rete, punta a favorire il processo di inclusione del Paese. Grazie. Grazie a tutti.